Ola, ola, ciao, 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 ciao. Il Toro. Quando sulto così. Argentina. In campo quello che faccio io è l'impegno che metto per sempre dare il massimo. Mio padre. Giocare nella nazionale argentina è anche un mondiale. Dare il massimo e cercare sempre di migliorare ogni giorno. L'umidà, il lavoro e essere sempre responsabile per quello che faccio. Sicuramente il ritardo delle persone è quello che mi dà tanto fastidio. Il reggaetone è la cumbia argentina. Il pasta. La STO. La STO. La STO. La STO. La STO.